Il Ministro Bonetti in visita ad Urbino per un momento importante. L'Università accoglie questa disquisizione sulle pari opportunità. Un'iniziativa importantissima di cui sono profondamente grata a tutta l'Università di Urbino, a partire dal magnifico Rettore, non solo per l'accoglienza ma per il coraggio anche di portare un tema così prioritario per l'agenda del nostro Paese, quale le pari opportunità. Serve un impegno della collettività tutta intera, delle comunità, ma serve un impegno dei luoghi come di ricerca, di educazione, di formazione, quali sono le università. Dobbiamo partire da un approccio culturale ed educativo che rimuova quegli stereotipi obsoleti, inadeguati, che in qualche modo vedono le donne escluse da alcuni processi di apprendimento, penso al mondo scientifico, oppure dall'esercizio dei ruoli di leadership. Noi siamo un Paese che ha una Costituzione tra le più avanzate nell'ambito della promozione delle pari opportunità. Le 21 madri costituenti hanno davvero fatto la differenza per la nostra democrazia e quindi è il nostro dovere oggi ridisegnare questo percorso. È stato un piacere avere la Ministra Bonetti perché, appunto, come ho detto, rappresenta in questo momento una persona che si sta impegnando a risolvere questo tema, sia delle disuguaglianze di genere, problemi della famiglia, ma anche e soprattutto questo tema della violenza contro le donne. Mi sembra che nel suo intervento sia stata molto esplicita nelle linee che sta portando avanti, soprattutto, come ha detto più volte, quello di provare a cambiare le regole che in questo momento rappresentano degli ostacoli alle donne per partecipare in modo attivo in tutti gli organismi di rappresentanza, ad esempio sia nel mondo pubblico e anche nel mondo privato. Le differenze sono, in qualche modo, un valore che va cercato di far emergere, che va cercato di far emergere, quindi penso che, appunto, dovremmo tutti impegnarci nel fare sì che le differenze non siano un ostacolo, ma un valore aggiunto. Io credo che i pregiudizi legati, come dire, a presunte attitudini delle donne, in un senso o nell'altro, sono un fatto culturale. E dicevo nel mio intervento, a volte inconsapevolmente culturale. E su questo, evidentemente, il percorso deve partire dalle giovani generazioni. Forse parte proprio da noi donne come madri dei maschi. E poi parte nelle scuole, come dire, in uno sviluppo delle facoltà cognitive di entrambi i generi in maniera, come dire, inclusiva. E poi parte anche, secondo me, seguo, diciamo, nel corso della crescita, deve diventare nelle donne adulte consapevoletta della propria autonomia, consapevoletta della propria libertà, consapevoletta del proprio talento. Grazie.